Ben collegati, ben trovati, un benvenuto a tutti per questo secondo appuntamento dedicato al ciclo della finanza agevolata. Questo webinar ha l'obiettivo di presentare il finanziamento studiato appositamente per sostenere la solidità patrimoniale delle PMI e delle MidCap e per stimolare la competitività internazionale. Dal 3 giugno, infatti, dovrebbe riaprire lo sportello per presentare la domanda a Valere proprio sul fondo 394 ed è un finanziamento, come abbiamo detto, riservato alle MidCap e alle piccole e medie imprese italiane, costituite in forma di società di capitali che nell'ultimo vienno abbiano realizzato all'estero almeno il 20% del proprio fatturato o almeno il 35% nell'ultimo anno. Stiamo parlando comunque di un finanziamento finalizzato al miglioramento e al mantenimento del livello di solidità patrimoniale al momento della richiesta di finanziamento, il cosiddetto livello di ingresso, rispetto ad un livello di soglia predeterminato. L'importo massimo finanziabile, poi lo approfondiremo in modo più dettagliato durante il corso del webinar di 800.000 euro fino al 40% del patrimonio netto di impresa per una durata di 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento. È sicuramente un ottimo strumento per finanziare i progetti per esportare e creare liquidità. Dal 1 luglio scorso Simest, che concede i finanziamenti agevolati a supporto dello sviluppo sui mercati esteri alle aziende italiane, ha introdotto importanti novità proprio su questi strumenti. Un contributo del 50% a fondo perduto per l'esenzione della necessità di presentare garanzie bancarie, che fino al 30 giugno 2020 era proprio una condizione necessaria per poter ottenere i finanziamenti agevolati di Simest. È quindi chiara l'intenzione del governo e pertanto di Simest, che in questo contesto ne rappresenta sicuramente il braccio operativo, di continuare sempre più a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, facilitando l'accesso al fondo anche per il 2021. Vi racconteremo tutto nel corso del webinar con i nostri ospiti che vi introduco. Il dottor Francesco Brami, CEO di Change Capital, che oggi è nella veste colui che aprirà i lavori con i saluti istituzionali. La dottoressa Valentina Testi, AM di Change Capital, che ci parlerà della presentazione dei servizi di finanza agevolata e di tutti i servizi naturalmente offerti proprio da Change Capital. Il dottor Carlo De Simone, servizio di Institutional Relations and Direct Channels di Simest Spa, presenterà proprio nel dettaglio il finanziamento con i soggetti che sono ammessi, benefici e requisiti di accesso. Il dottor Stefano Carrara, founder di Linus, ci parlerà proprio di quali sono questi elementi dal punto di vista delle analisi di bilancio, quindi quali sono i livelli di ingresso e livelli soglia. Il dottor Mario Pozzi, Corporate Business Development di Pralina, il nostro business case di oggi, ci racconterà invece nel dettaglio come ha investito i soldi del finanziamento. Passo quindi la parola a Stefano Carrara, che ha preannunciato proprio il dottor De Simone, anche perché il dottor De Simone ci ha illustrato i parametri di accesso, i requisiti per accedere al bando. Invece tu Stefano, ciao benvenuto. Ciao grazie. Tu ci racconterai e ci parlerai sempre di numeri, ma ci darai proprio delle delucidazioni su come poter rintracciare questi parametri proprio da un punto di vista di bilancio, tenendo proprio conto del livello di soglia e del livello di ingresso. Quindi ti lascio subito la parola. Sì, ti ringrazio, ringrazio anche la chiarissima esposizione del dottor De Simone, che ringrazio. Il 3 giugno è anche il mio compleanno, per cui spero che sia di buon augurio per tutti coloro i quali faranno ricorso a questa ottima e interessante misura che viene proposta. Io oggi vorrei partire da come è fatta l'Italia e quindi vorrei cercare di fare un pochino di contesto e capire dove si vanno ad inserire queste misure e qual è il contesto industriale italiano, per poi andare sempre più a fondo e vedere anche un caso reale di impatti che può avere un finanziamento come quello che viene prospettato. Quello che vedete è una situazione dove sono rappresentate le principali aziende italiane. Sapete che in Italia se parliamo di bilanci depositati, quindi riferibili in sostanza alle società di capitale, abbiamo circa 900-930 mila bilanci. In questa ideale piramide le aziende, le società che fatturano più di mezzo milione rappresentano circa il 90% del fatturato complessivo. Quindi questo è un primo dato all'interno del quale noi ci andiamo naturalmente a muovere. Giusto per ricordarvelo, le aziende in rosso sono quelle che hanno dei problemi a livello di rischio aziendale, chiamatelo rating, chiamatelo score, chiamatelo comunque a situazione di rischio complessivo che i numeri riescono ad evidenziare e di questo va tenuto presente in generale quando si accede ad un finanziamento e in particolare questo non fa naturalmente eccezione, nonostante a mio avviso correttamente la misurazione degli obiettivi che si propone Simest viene fatta sul grado di patrimonializzazione e quindi c'è da parte di Simest un obiettivo molto molto chiaro che poi sottende anche poi certi comportamenti, certi percorsi aziendali. Però questa era un po' la situazione di partenza, addirittura io spesso provocatoriamente dico che l'Italia è un paese di PMI fino a un certo punto perché come vedete abbiamo l'8% malcontato delle aziende che fa quasi il 70% dei ricavi complessivi, quindi poi dietro ci sono delle filiere molto ben identificate che conosciamo in Italia ma attenzione perché ci sono delle aziende guida che non possono essere discorsi dal nostro discorso. Allora se andiamo avanti di una slide cortesemente, io prima di tornare a qual è il perimetro poi delle PMI con un esempio che desidero condividere con noi e con voi ma non per una questione didattica e semplicemente per una questione di ragionamento, ad abituarci a ragionare sui numeri, vi faccio vedere su un'azienda reale in cosa consistono questo indice di patrimonializzazione, fermo restando che ce ne sono tantissimi e anche nel mondo degli indici non è detto che gli indici vengano calcolati negli stessi modi, adesso c'è una normativa europea cosiddetta LOM che viene adottata da tutte le banche per il monitoraggio che suggerisce degli indicatori, non fornisce le formule quindi poi c'è una grande soggettività. In questo caso invece c'è una definizione molto precisa, questo è un pregio naturalmente dell'indicatore, l'indicatore va a raffrontare il patrimonio netto della società con l'attivo fisso netto quindi le immobilizzazioni nette. Lasciamo perdere per adesso cosa c'è nel patrimonio, cosa va nelle immobilizzazioni perché a parità di patrimonio e a parità di immobilizzazioni posso avere cespiti di natura diversa, posso avere prevalenza di immobilizzazioni materiali magari rivalutate, posso avere prevalenza delle riserve nel patrimonio piuttosto che di utili esercizi precedenti, sono tutte situazioni soggettive che non andiamo a toccare in questa sede ma che vanno naturalmente poi tenute presente. Allora questo è il rapporto, quelle che vedete non sono le soglie indicate da Siemens ma sono delle soglie generali che gli analisti finanziari guardano, poi non dovete prendere come soglie rigide ma vanno prese sempre Camilla in un contesto, cioè gli indici sono come gli esami del sangue, nessun medico ti dirà che per il solo fatto di avere il colesterolo basso stai bene o alto stai male, ti chiederà di vedere anche la pressione, ti chiede se fai sport, che tipo di vita conduce, con l'azienda è esattamente la stessa cosa. Il significato di questo indicatore andando all'interpretazione è invece molto chiaro, generalmente i livelli dell'indicatore superiori a 1 stanno a significare che quella determinata società sta finanziando completamente gli investimenti immobilizzati con il proprio capitale, quindi con i finanziamenti che escono dalla tasca del socio, dell'azionista, fermo restando quanto detto sulle riserve e su altre eventuali attività bilancistiche tipo le rivalutazioni. Se l'indice è inferiore a 1 invece significa che l'azienda sta anche utilizzando delle risorse esterne per finanziare degli investimenti immobilizzati, la situazione critica avviene quando io sto finanziando degli investimenti a lungo termine, non col patrimonio, non con la finanza bancaria a lungo termine ma magari con il circolante, vi sarà capitato in azienda di vedere fatture che vengono scontate per andare a fare degli investimenti, questa è una situazione di grande stabilità finanziaria che si vede naturalmente dal singolo caso. Ecco chiarito così a grandi linee spero qual è il significato dell'indicatore andrei avanti perché a questo punto lo andiamo a rapportare, io ho rubato dalla circolare di Simest, la tabella inferiore, dove è indicato un po' il percorso che il dottor De Simone ci ha raccontato in precedenza e quindi gli indicatori hanno delle soglie che sono state definite a 0,65 per le società industriali e a 2 per le altre società, quindi fondamentalmente quelle di servizi e quelle commerciali sebbene ho capito e delle soglie minime poi di ingresso, dei valori di ingresso che sono stati stabiliti in 4 per il commercio e servizi, 2 per le società industriali, mentre scusate 0,65 la soglia per le industrieali e 1 per il commercio e servizi. Perché il monitoraggio di questi indicatori nella vita del finanziamento, a meno che io così lo interpreto, poi me lo confermerà o meno il dottor De Simone, è molto importante? Se l'obiettivo è andare a migliorare la patrimonializzazione, qua c'è un indicatore chiaro che ci dice se questa patrimonializzazione è stata migliorata, quindi anche da questo punto di vista mi sembra che il sottostante al finanziamento della logica sia tanto efficace quanto semplice, poi anche di facile applicazione agli imprenditori. Se andiamo avanti, cerchiamo invece di capire, fatte queste premesse, qual è il parterre di quella piramide che abbiamo visto all'inizio delle aziende che sono potenzialmente interessate. Io ho fatto questo giochino, quello che vedete è stato estratto dal database di Indus, che è un po' tutti i bilanci delle aziende italiane, mi sono andato a focalizzare sulle PMI. Naturalmente non ho a disposizione le dichiarazioni IVA e quindi per il momento lasciamo da parte, ma lo diciamo per correttezza di rappresentazione, l'incidenza del fatturato sull'azienda. Il mio obiettivo è ragionare su questo indicatore, poi naturalmente nella realtà andando a vedere le dichiarazioni IVA immagino che di quelle 76 mila aziende identificate saranno meno quelle che soddisfano contemporaneamente anche l'altro requisito. Però vediamo che ce ne sono un numero importante, se fossero un terzo sarebbero grossomodo 20 mila società tra servizi, industria e commercio interessate. Andiamo avanti e andiamo ancora a focalizzare meglio, questa volta andiamo a prendere l'industria, vedete che nella nostra schermata dei filtri che uso per profilare un po' l'azienda italiana abbiamo lasciato l'inalto solo la parte industria e sotto nel riquadro, nel rettangolo tratteggiato rosso, cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito la soglia di ingresso, il finanziamento siccome mira a rendere più solida la situazione patrimoniale, se tu già, penso che sia questa la razza, se tu già sei molto solido in base a un indice che definiamo, allora non puoi accedere a questo tipo di misura. Quindi di quelle aziende viste all'inizio ce ne sono 24 mila che stanno al di sotto del valore di due dell'indice di patrimonializzazione. Se andiamo avanti vediamo ancora meglio qual è la situazione compressiva, qua vi chiedo un po' di concentrazione, magari suggerivo un caffè in precedenza, non l'ho fatto, però quello che vediamo è, partendo da sinistra, nel settore industria le PM interessate sono circa 36 mila, torno a dire non stiamo contando le dichiarazioni IVA, quindi tenetelo ben presente per favore, quelle che hanno un valore dell'indice al di sotto di quello di ingresso sono circa 24 mila, quindi circa il 66%, e qua c'è un punto a mio avviso molto interessante, dove dobbiamo iniziare a rapportarci al nostro caso, semmai avessimo in mente di accedere a una misura di questo tipo, e cioè che di quelle 36 mila imprese, o di quelle 24 mila, ce ne sono 9 mila, 9 mila e 500, che hanno l'indice che sta al di sotto del valore di ingresso 2, ma sta anche al di sotto del valore soglia, io presumo, anche perché è regola finanziaria generale, che al di sotto di quel valore, insomma inizia ad essere in una fascia dove la patrimonializzazione è un tema per quell'azienda, non solo rispetto a Siemens, ma anche un tema che guardano sicuramente gli operatori bancari e finanziari. Se facciamo lo stesso giochino spostandoci verso destra con le aziende di commercio e di servizi, quello che emerge è che le società che hanno un indice al di sotto del valore soglia, quindi uno, sono il 43%, conto il 26% a parità di attività nell'industria. Questo potrebbe essere spiegato con un calcolo eventualmente voluto di un valore soglia diverso per i servizi, che chiaramente hanno logiche diverse ed è giusto che vengano tenute in considerazione, però fatto sta che quelle che stanno al di sotto della soglia sono in proporzione di più nel mondo dei servizi. In basso vedete per ciascuno delle due listi che rappresentano un'azienda con valore soglia la distribuzione per rischio e qua ci avviciniamo veramente al singolo caso e qua l'invito è di iniziare a guardare queste tematiche laddove avete in mente di ricorrere a questo finanziamento. Perché? Perché vedete bene, partendo da sinistra, che di quelle 9500 società al di sotto della soglia, dal punto di vista dell'indice di patrimonializzazione, c'è una distribuzione per rischio, in questo caso il rischio lo misuriamo con l'InuScore, ma potrebbe essere misurato con alti score o alti rating, non cambierebbe la mia considerazione. Abbiamo quasi la metà di quelle aziende che sono considerate aziende con un livello di rischio abbastanza elevato e quindi aziende che farebbero magari fatica ad andare a lavorare con il sistema bancario to cure e quindi dovrebbero usare Ossimesto eventualmente la finanza alternativa e quindi chiamare Francesco Brami. Dall'altra parte se vediamo la distribuzione invece delle 17.400 aziende che abbiamo identificato nel mondo del commercio e dei servizi, quelle che hanno una valutazione automatica di rischio negativa, sono in percentuale molte di meno rispetto alle pari categorie del settore delle sottosoglie, scusate il gioco di parole, dell'industria. Quindi il messaggio che ne emerge a mio avviso è molto chiaro, non basatevi solo su un indicatore, ma se avete in mente di utilizzare la misura e penso, ma mi correggerà eventualmente se dico qualcosa di errato, che questo sia nell'interesse innanzitutto di chi accede al finanziamento e in secondo luogo anche di Simmes che chiaramente ha un compito ben preciso istituzionale da svolgere e che svolge bene, quindi è la prima ad essere interessata che le aziende accudano in maniera asciente e coscienziosa alle misure. Siamo in conclusione, andiamo avanti. Volevo a questo punto utilizzare questa analisi che abbiamo visto per vedere rapidamente un caso concreto di un'azienda vera che abbiamo preso e analizzato per voi con Linus. Invito tutti a ragionare in maniera prospettica, ma non solo perché il finanziamento va su sei anni con due anni di preammortamento, questa naturalmente è una ragione molto valida, ma in maniera prospettica in generale, perché oggi torno a usare le banche, oggi le banche hanno l'obbligo per l'Eba o anche dal regolatore italiano di andare a fare continue simulazioni, continue valutazioni e vanno a guardare degli early warning cosiddetti bancari. L'altra volta con Camilla abbiamo fatto un piccolo sondaggio con i commercialisti che ci erano collegati e quasi tutti conoscevano il codice della crisi, quasi nessuno conosce invece gli early warning bancari. Cosa sono? Sono degli indici che si calcolano sui numeri dell'azienda, allora bisogna stare attenti a vedere che anche il finanziamento si investe in base ai propri progetti sia sostenibile e non solo perché c'è una misura eventualmente agevolativa, ma soprattutto che anche rispetto al resto del sistema bancario non si rischi di incappare, perseguendo solo un unico indice, in dei semafori che poi magari scattano a metà del guado e mi tolgono il ramo, mi tagliano il ramo dall'altra parte. Quindi l'invito è guardare a 360 gradi. Lì vedete alcuni indicatori con degli acronimi abbastanza brutti indicati che sono quelli che dovete assolutamente avere sott'occhio. Andiamo avanti, siamo in conclusione, vedendo invece il caso concreto. Quella che vedete è un'azienda produttiva, ha un patrimonio netto di quasi 3 milioni, questo è già un bilancio 2020, noi già ci sono tanti bilanci del 2020, questa è una cosa abbastanza singolare, ma io ve la dico che sono disponibili presso il registro delle imprese, quindi la fonte di questa analisi che vedete è assolutamente pubblica. Ha un patrimonio di 3 milioni e ipotizziamo che a fronte di quel patrimonio, vedete che ha avuto una contrazione dei ricavi del 25% nel corso del 2020, sarà stato probabilmente a causa del Covid, ha avuto una grande contrazione di liquidità, però ha avuto tutto sommato una perdita di 180 mila euro che tutto sommato su 8 milioni e mezzo di ricavi, considerato quello che è successo, c'è di peggio, dicono dalle mie parti, a 30 dipendenti di un'azienda industriale. Ipotizziamo che questa azienda voglia accedere al finanziamento. Bene, l'indice di copertura sarebbe di 1,84, calcolato esattamente come abbiamo visto prima. Andiamo avanti e applichiamo alcune ipotesi negli anni successivi, facciamo nei tre anni successivi, comprendendo il 2001 per semplicità, ipotizziamo che l'azienda punti a fare 9 milioni di fatturato, quindi vedete la tabella dei ricavi sopra, questi sono tutti gli input che vengono poi messi in piattaforma che mi ritornano il risultato finale, di cui 4 milioni sull'estero con quel trend che vedete crescente, quindi l'azienda punta a fare 10 milioni per il 2023. Aumentiamo un po', tabella sotto, i costi di produzione, perché c'è un progetto nuovo, avremo delle persone nuove, abbiamo dei costi nuovi e poi io vi ho messo una cattiveria, l'ho messa volutamente per spingere un po' a riflettere. La cattiveria è l'ultima tabellina che mettete sotto, dove si vede che i tempi di incasso, quindi i tempi legati al circolante, magari legati al progetto estero, sono dei tempi che vanno peggiorando, quindi l'azienda investe, l'azienda aumenta i ricavi, ma ha un circolante che si allunga, magari perché deve passare tramite i distributori, non lo so, il caso fatelo voi. Andiamo avanti, vediamo cosa succede a fronte di queste ipotesi. Ipotizziamo ancora che gli 800 mila euro, quindi tabella delle immobilizzazioni materiali, vengano immediatamente investiti, l'ottor De Simone ha detto che non c'è un vincolo, se ho capito bene, all'investimento della finanza che viene arrogata, quindi vengono investiti per aumentare la capacità produttiva, magari per creare una branch in un determinato paese e sotto vediamo che rispetto a questo investimento c'è un periodo di preammortamento di due anni, quindi il saldo del finanziamento nuovo da 800 mila euro non viene restituito fino al terzo anno. Questa è l'ipotesi di fondo, cosa succede quando la Simest viene a verificare il valore dello stesso indice finito il preammortamento, perché questo ha un'importanza centrale nella dinamica del progetto, andiamo avanti e dovremmo riuscire a vederlo. Ecco qua, quello che state vedendo è il flusso di cassa costruito, nel nostro caso da Linux, ma uno lo può fare pure su Excel o lo può fare con tutti gli strumenti di cui può disporre, il flusso di cassa previsionale è legato alle ipotesi che abbiamo fatto, quindi prendo i soldi dalla Simest, ho il preammortamento, faccio l'investimento, mi allungo il circolante, crescono i ricavi eccetera eccetera. Quello che succede è che il mio ciclo del circolante mi genera un'erosione di cassa, quindi l'aumento dei crediti clienti dovuto all'aumento dei tempi di incasso mi brucia tutti gli anni delle risorse finanziarie. Se io ho pianificato questo e l'ho visto, magari ci penso due volte o vario modifico il mio piano, poi prendo sempre le risorse Simest che sono importanti, però lo devo sapere. Questo ha una ricaduta, andiamo credo sull'ultima slide che manca, ha una ricaduta sull'indice, quindi il mio consiglio è di fare questo esercizio perché vedete che nel caso di specie, è un caso volutamente un po' cattivo, ma per farvi riflettere torno a dire, il mio indicatore di patrimonializzazione è migliorato, vedete che migliora da 1,84, cala un po' nel 2021, poi migliora negli anni successivi che quando si verifica il momento del check, il checkpoint, è migliorato quindi quell'azienda rispetto all'obiettivo del finanziamento dovrebbe, se ho capito bene, aver raggiunto quell'obiettivo perché è l'indicatore di verifica superiore a quello di ingresso. Tuttavia nella parte inferiore vediamo degli altri indicatori, ne ho scelti due ma ci sono tantissimi, che sono quelli che vengono guardati e hanno ahimè degli effetti molto importanti nel mondo banca tradizionale, è uno su tutti il DSCR a causa di quell'assorbimento di circolante cade, le banche hanno un DSCR che è superiore all'1,5, se sei inferiore all'1,5 viene messo tra i cattivi o se va bene tra gli indicipinati e rischi di ricevere una richiesta di rientro immediato dei finanziamenti perché la banca deve accantonare più soldini. Quindi facciamo molta attenzione e la parola magica Camilla, ma penso che state un po' tutti d'accordo, lo spero, è quella di pianificare, che non è prevedere, ma capire quali sono gli effetti non solo rispetto all'indicatore ma rispetto a tutta la posizione dell'azienda. Questo è un po' il senso del mio contributo che spero vi sia servito. Credo che con questo abbiamo terminato.